Stefano Redaelli, buongiorno. Buongiorno Livio, buongiorno a tutti. E benvenuto davvero qui nel posto delle parole per condividere, seppure nella brevità di questa conversazione, il suo libro intitolato Ombra mai più, pubblicato dalla casa editrice Neo Edizioni. Stefano Redaelli, professore di letteratura italiana alla Facoltà Artes Liberales dell'Università di Varsavia, ha dottorato in fisica e in letteratura, si interessa dei rapporti tra letteratura, medicina, scienza e spiritualità. Come mai questo intreccio letteratura, scienza, spiritualità e medicina, Stefano Redaelli? Perché la vita è intrecciata, indissolubilmente spesso, quindi il percorso di studi si è così articolato, di spiegato tra diverse discipline, perché un po' la vita con le sue esperienze, le sue inquietudini, le sue ricerche, ci porta spesso al crocidia di saperi, al crocidia di vite, che richiedono un continuo reciproco interrogarsi tra le discipline, soprattutto quelle umanistiche e quelle scientifiche, che ambiscono ad una verità intersoggettiva, se non vogliamo dire oggettiva, e quelle umanistiche che comunque si interrogano sul significato, sul senso di una verità, di qualunque verità, su come queste verità che la scienza ci può dare, influiscano condizioni, diano un senso, un sapore alla nostra esistenza, alle nostre relazioni. Sì, il senso, il senso come significato, il senso anche come direzione, ma a proposito di intrecci, entrando poco per volta nella storia Ombra Mai Fu, qui gli intrecci sono per noi molto confusi, noi che siamo così precisi, così ordinati, così virgolette, tante virgolette normali, poi ci sono le altre persone, quelli che secondo noi sono confuse, sono disordinate mentalmente, e quindi sono altri. In questo romanzo la parola altri prende un significato diverso. Potremmo quasi dire, junghianamente parlando, Stefano Redelli, che in questo romanzo, andando incontro agli altri, a quelli diversi, andiamo incontro a noi stessi. Sì, sì, senz'altro questo romanzo è una interrogazione sull'altro, come spesso sono i romanzi, sull'altro in particolare l'altro, il diverso, il malato, il paziente, l'ex paziente psichiatrico, lui si definisce un impaziente psichiatrico, quindi un altro anche che storicamente, culturalmente abbiamo temuto, separato, curato in modo molto improprio, cioè diciamo abbiamo spesso imprigionato se non sediziato. Uso il noi perché insomma sono comunque anch'io parte di quella umanità, anche se non sono stato psichiatra negli anni 60, 70, non ho lavorato in manicomio, però dico noi perché diciamo interrogandomi, interrogandoci, quando si scrive un romanzo si prende sempre così una posizione collettiva, e nello stesso tempo però è un romanzo, un'interrogazione, un'investigazione molto personale, anche molto privata. Sì, e questo ombra mai più racconta la storia di un altro che è visto dagli altri come altro, Angio Antonio Poloni, che è stato un paziente psichiatrico, che però appunto dopo essere guarito, torna nella società, incontra quegli altri che sono gli altri normali, gli altri sani, e attraverso questo rispecchiamento tra normalità e, chiamiamola follia, tra sanità e malattia, scopre un continuo gioco di specchi, un continuo cortocircuito che porta, dovrebbe così, portare a interrogarsi su cosa sia la sanità, su cosa sia la normalità, su cosa sia l'alterità e come probabilmente all'interno di questa idea di sanità e di normalità dovrebbe essere custodita proprio la normalità e la malattia con grande cura, con grande amore direi, senza svelare di più sulla trapa, ma se vuoi possiamo dire qualcosa. No, no, qui nel posto delle parole, a proposito di come raccontiamo i libri, noi amiamo stare sulla soglia e credo che sia anche un atto di rispetto nei confronti degli ascoltatori, prossimi lettori, perché poi che cosa serve rivelare troppo? Serve a poco, però qualche cosa lo vogliamo rivelare e chiedo adesso a Stefano Rellaelli in quanto scrittore, come si pone lei con queste parole? Non siamo noi che abbiamo fame di letteratura, è la letteratura che ha fame di noi. Sì, questo è l'incipit del romanzo. Questa è una frase che mi ha sorpreso e interrogato durante la stesura del romanzo, cioè qual è il nostro rapporto con la letteratura, perché scriviamo, volendo una declinazione della grande domanda che si pongono tutti quanti gli scrittori, perché scrivo, perché scriviamo, e tanti hanno dato tante risposte. E questa parola, io mi sono piuttosto, come dire, sorpreso a dover accostare la scrittura alla fame, a questa fame di storie, la fame che appare proprio con un nutrimento, ovviamente, con un bisogno fisiologico, un bisogno ontologico, perché le storie ci fanno stare al mondo, ci fanno essere in quanto uomini, non solo ci fanno vivere biologicamente. E quindi questo ribaltamento tra l'idea che siamo in genere noi ad avere fame di storia, ma che anche la storia, che la letteratura che ha fame di noi, vuole creare appunto una perdita di equilibrio iniziale per chi legge e per chi scrive, che dovrebbe spingere a cercare una o più risposte su qual è il motivo per cui veramente scriviamo, a quale fame rispondiamo e quanto la letteratura, in quanto, diciamo, grande archivio della storia, delle storie della comunità umana, abbia bisogno di noi, di ogni scrittore, di ognuno che scriva o che racconta una storia. Così come noi abbiamo bisogno, ovviamente, della letteratura e della storia per poterci inquadrare e dare un senso a chi siamo, da dove veniamo, di cosa facciamo parte, di quale... Anche Angelo Antonio ha questa necessità, una necessità molto forte di raccontare, di scrivere, di porsi non in evidenza, ma di porsi di fronte agli altri in quanto è un uomo che passa ad aspettare, come a un certo punto si legge nel libro. Ad aspettare chi? Lo scopriremo, ovviamente, ma passa ad aspettare, però questa vita è passata ad aspettare nel riconoscimento, no? E qui torno al tema della follia, della pazzia, no? Ecco, Stefano Redaelli usa la parola follia invece di altre parole e lo spiega anche attraverso il suo protagonista. Perché è preferibile parlare di follia? Perché follia non è una parola scientifica, ecco, a proposito delle due culture, non è una parola psichiatrica, non è una parola tecnica e non che sia contrario, non che siano negative e tutt'altro, anche queste parole scientifiche e tecniche. Però quando la follia diventa solo malattia, soltanto sintomi, soltanto diagnosi, si viene relegata tutta la sofferenza, anche che c'è dietro un'esperienza di disagio mentale, tutto il significato anche profondo, legato a un vissuto, a un'esperienza, a un modo diverso di percepire il mondo, se nel momento in cui viene ridotto soltanto a una diagnosi, una sindrome, una patologia, si rischia che venga svuotato del suo significato umano e della sua possibilità di senso, appunto. E in questa storia si vuole usare questa parola follia, proprio perché la follia è una parola letteraria, anche una parola artistica, una parola della cultura, dell'antropologia, della filosofia, e ognuno può leggere dentro questa parola molti significati che non devono essere necessariamente negativi, perché, diciamo, con la nascita della medicina moderna, della psichiatria, ahimè, come direbbe Foucault, diciamo, la follia ha smesso di essere di follia, è diventata malattia, come diceva anche Basaglia, ma storicamente aveva anche tanti altri significati, sicuramente legati anche alla sofferenza di una malattia, ma anche significati più profondi, la follia era una possibilità di essere in contatto con la divinità, di essere in contatto con l'ispirazione, la follia, ecco, la parola folle vuol dire appunto folli, spallone vuoto, aveva a che fare anche con una leggerezza, una capacità di non essere legato soltanto alle cose di questo mondo, alle cose contingenti, ma di essere capace di aprirsi a ragionamenti, a sensibilità diverse. La letteratura ha sempre cercato di ridare, restituire alla follia tanti significati, dolenti, ma anche, posso dire, beati, mentre le parole della medicina che sono necessarie, ribadisco, non è un mio romanzo antipsichiatrico, tutt'altro, credo nella psichiatria, soprattutto la psichiatria che crede nella parola, che crede nella letteratura, oltre che nella medicina stessa. Ecco, queste sfumature, queste stratificazioni di significato della parola follia sono più capaci di speranza e anche più capaci di farci capire l'altro, di metterci nei panni dell'altro che possiamo essere in qualunque istante, anche noi, nella nostra personale follia o nella nostra privata malattia. Nelle settimane scorse noi abbiamo avuto modo, qui nel posto delle parole, di incontrare, per esempio, Paolo Vanzini, psichiatra, con un libro molto interessante, Self Help, ovvero dell'autogestione di queste persone, ed è molto importante. Prima ancora abbiamo incontrato Paolo Miorandi, che ha raccontato la storia di Oreste Nannetti. Oreste Nannetti era un ospite di un manicomio, era una di quelle cose per cui non c'è posto al mondo, ovvero i matti. E che faceva Nannetti? Nannetti scriveva sul muro, no? Scriveva sul muro le cose a cui teneva. In fondo, sia questa figura, sia il personaggio di Ombra Mai Più, Angelo Antonio, scrivono per trovare un posto dove posarsi, no? Non essere così ingombranti, come dicevamo poco fa, crearsi un posto nella vita. E questa, la scrittura, è qualcosa di molto più, molto più grande che l'effetto terapeutico. Sì, 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 sì. E anche terapia, o se lo vogliamo, terapia, ma in un senso ampio, come appunto terapia, saper stare al mondo, trovare il proprio posto, il proprio nome, i nomi degli altri. Quindi, sì, Angelo Antonio Poloni, protagonista di Ombra Mai Più, risponde a questa fame della letteratura, che è anche la sua fame, perché scrivendo da una parte prova ad ordinare, perché la scrittura ha anche una forma di difesa da qualunque disordine, da qualunque... è la nevrosi del cercare di ordinare in un senso quello che ci accade, quello che viviamo dall'altro. Però, contemporaneamente, la scrittura ha un percorso di ricerca, di sequela e di accettazione di ciò che non può essere ordinato, di ciò che ci porta verso strade non previste, verso sentimenti non previsti, però sono nostri, sono umani, dobbiamo quindi dargli uno spazio, dargli... e tutto questo, io credo, sia terapia in un senso non solo medico, appunto, in un senso molto più esistenziale. Tutto questo sia cura, ecco, se non vogliamo usare la parola terapia, è una parola che amo, una parola intorno alla quale ruota questo romanzo, è la parola cura, come vuol dire prendersi cura di se stessi. È l'unica cura, lei scrive alla fine del romanzo, no? Sì, 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 sì. È la scrittura a che fare profondamente con la cura in questo romanzo, come in tanti, se non dico in tutti, in moltissimi romanzi, un prendersi cura delle parole, un prendersi cura degli altri, un prendersi cura di ciò spesso che non è nel cuore, nella cura degli altri. Quindi la scrittura ha anche come possibilità, infatti questa è la storia di un folle, di un ex folle, se vogliamo, o di un folle ex paziente psichiatrico che rappresenta forse la storia di tanti di cui non ci si è storicamente presi cura, oppure non si sa bene come prendersi cura. O anche persone che loro stesse non hanno ricevuto la possibilità, gli strumenti, ecco, prima parlavi di incontri con un psichiatrico, persone che hanno fatto anche ricerche dentro gli ex manicomi, quali erano anche gli strumenti, meno male appunto che la psichiatria si è evoluta e passa attraverso le sue varie trasformazioni, anche di matrice fenomenologica, quanti strumenti adesso anche ci dà per che possiamo prenderci cura di noi stessi. Prenderci cura di noi stessi vuole dire anche non vergognarsi delle proprie ombre, tutti quanti tutti quanti abbiamo le ombre. E certo che oggi però, senza demonizzare il tempo che stiamo vivendo, ma in ogni modo è un tempo di esasperata vetrinizzazione, in un modo o nell'altro, e quindi raggiungere il punto del vero, del reale è molto difficile e ce lo dimostra anche, ce lo dimostra Angelo Antonio con i suoi rapporti con gli altri, perché questo è un libro che racconta di Angelo Antonio, ma possiamo specchiarci in queste persone, in queste relazioni, no? E a proposito di relazioni c'è una relazione molto particolare che vorrei citare, partendo dall'immagine di Copertina, non so se l'immagine, non so se l'albero in Copertina sia un platano, ma il platano qui prende una forma vivente quasi parlante. Sì, sì, l'ombra mai più, è l'ombra anche del platano sotto il quale il protagonista del romanzo è cresciuto, è l'ombra della protezione, è l'ombra paterna, è l'ombra della terra, della natura, quindi è un'ombra protettiva e quando si torna da un'esperienza, da una guerra, da un manicomio, forse la prima cosa che si cerca è questa ombra che ci protegga, questa casa, questa famiglia, questa protezione. Però l'ombra è anche l'ombra della malattia, di cui parlavi prima, un'ombra che vorremmo nascondere, vorremmo cancellare dal curriculum vita, il fatto che per tre anni non abbiamo lavorato e studiato, ma siamo stati pazienti. Ecco, l'ombra ha entrambi questi significati e anche altri nel romanzo. Nello dialogo tra questi significati dell'ombra c'è un percorso e una figura centrale è sicuramente quella del platano, del platano che si contrappone a sua volta in quanto figura arborea, possente, protettiva, a un'altra figura arborea che è quella della madre, madre bonsai, che invece è piccola, sempre più piccola, raggrinzita per via della malattia e ci sono queste due figure, appunto, di alberi diversi, sani e malati che dialogano, con i quali appunto dialoga il nostro protagonista e in qualche modo costringe anche i lettori a porsi di fronte a queste possibilità di vita, di sanità e di malattia e questi significati dell'ombra di cui anche ci si può prendere cura, anche dell'ombra ci si può prendere cura. Anche dell'ombra, dobbiamo prenderci cura perché questa è una necessità, è una necessità del nostro vivere, forse anche una missione del nostro vivere. Chi è la domanda è quelli che non si prendono cura di nessuno. La domanda la lasciamo lì, la scopriranno forse i nostri ascoltatori, scopriranno la risposta a questa e molte altre domande nel romanzo Ombra, mai più, di Stefano Redaelli, romanzo pubblicato da Neo, ricordo, è stato presentato e mi fa piacere ricordarlo da Daniele Mencarelli al premio Strega nell'edizione 2023, ma prima di salutarci Stefano Redaelli, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? In questi giorni, ma per motivi un po' contingenti, mi fa compagnia Calvino, mi fa compagnia il signor Paloma, mi fa compagnia l'avventura di un fotografo perché sto per andare a Napoli a parlare di scrittura e fotografia all'Accademia delle Belle Arti, è una contingenza ma è anche un piacere. Ma è una contingenza che lo sai che io, leggendo il romanzo Ombra Mai Fu, è poi chiaro, quando leggi qualche cosa, la fantasia viaggia, mi ha ricordato il barone rampante, no? Ecco, ecco, giusto. Mentre l'Angelo Antonio non è mai salito sull'albero, però anche il barone rampante ha una bella dose di follia, vero? Sì, 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 sicuramente in questo esempio molto emblematico di Calvino che come scrittore in realtà ambiva, guardava alla scienza, all'esattezza, alla precisione come un orizzonte appunto, quasi la terra promessa anche diciamo del linguaggio, cercava, trovava continuamente una follia in questo ordine che la sua scrittura perseguiva, perché c'era veramente un modello di esattezza auspicabile anche per tanti che scrivono, ma con un continuo generarsi di significati e di sensi anche che hanno a che fare con la follia, come quella di decidere di abitare appunto su un albero, di essere appunto un cavaliere, un'armatura vuota che però ci interroga continuamente su cosa significa essere vuoti, non esserci, sì, Calvino è un compagno da un po' di tempo, di letture, anche per molti versi un maestro di scrittura e poi le contingenze, il caso ovviamente è soltanto una declinazione di qualcosa di ben più, di ben meno casuale, direi, almeno io la vedo così, non so tu, certamente, è più che d'accordo su questo, grazie davvero Stefano Redaelli per il tempo che ci hai dedicato e buona giornata. È stato un piacere, ti ringrazio, buona giornata, grazie per l'invito.